Cari concittadini, care concittadine, ci avviciniamo anche quest'anno alle festività natalizie e lo facciamo in un clima di maggior speranza e maggior ottimismo rispetto allo scorso anno. Grazie anche alla campagna vaccinale stiamo tenendo sotto controllo la pandemia e ci auguriamo davvero che le fasi più drammatiche della stessa siano ormai alle nostre spalle. Ma cosa ci ha insegnato questa terribile esperienza che abbiamo vissuto? Citando Papa Francesco nel suo discorso il marzo 2020, nessuno si salva da solo, ognuno di noi ha bisogno dei comportamenti corretti dell'altro per potersi salvare. Io credo che in questo periodo abbiamo imparato ancora una volta l'importanza di alcuni principi, il bene comune, l'aiuto reciproco, la solidarietà umana, il principio della responsabilità collettiva, laddove i comportamenti di uno di noi sono importanti per raggiungere il miglioramento della salute pubblica. Ecco, la mia speranza è che questi insegnamenti non ce li dimentichiamo presto e li portiamo sempre impressi nelle nostre menti e nei nostri cuori. Concludo augurando a nome di tutta l'amministrazione comunale, a voi e alle vostre famiglie, un buon Natale e un buon anno.